ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono daniele marchese e nel video di oggi proverò a cantare una canzone come avrete letto anche già dal titolo di gigi d'alessio ma cosa di particolare questo video che ce ne sono tra virgolette un milione sparsi per il web niente diciamo che la cosa particolare che potrebbe avere questo video che si potrebbe rispecchiare rispetto agli altri è una cosa sola io proverò non solo ad imitare gigi d'alessio a cantare con lo stesso timbro di gigi d'alessio ma ovviamente canterò con delle parole siciliane nello specifico in catenese ovviamente ragazzi il testo non è mio il testo ovviamente di giuseppe castiglia che saluto ciao giuseppe proverò a cantare con il suo testo ma usando solo ed esclusivamente il timbro di gigi gigi d'alessio d'accordo ragazzi mi sa sì che ho parlato anche troppo buon ascolto e a dopo ciao sono io amore mio ciao dopo che la ristero hanno su un'attività il pane c'è il figlio io accattu' un po' di vino che non c'è più chi fu da c'è giro di cà non si può camminare in tutta la città i piccirì i picchi io aspetta' un attimo che non ti sento più sto telefono che non mi piglia mai ma li ritto io quando mi cattai ma distratto sbaglio maccia e finisce ritto ritto un dofanali dalla coda piscaria e finiva così quanto danno che c'è e per fare un cretino bestia che sogna pizza in una macchina il morale va giù picchiacuppa lai tu camiruna a parlare mi fa imbriagare a macchiuri di subito e va bene però dai non chianci di più tanti cosi s'abbesso una limita poi accumita mucca la pa io su quasi quattro amore mio tu pigliai i piccirì ed io co garraccezzi porta macchina e se mucca dimmi lo tu su ti piace chi da bianco chi da blu la vuoi coupé o cabriolet pi sgavitari di secunna ma non c'è un libretto di l'assegno non lo sai fossi su pro gandarano muscu dai pigliai pinna quando boss e luca ci fimmo una vintina di cambiali e andiamo da mamma tua ti piace accussì l'ho comprata per te ten a cura che i figli di chidrac appresso nasca giù una macchina sa che piace anche a me nuova nuova come la magchiera sbagliari la magchiera pruari facemolo dai vieni qui salta su fino a cefalu mettati la cintura che allora costura nella vasta macchina io su progrusco t'amore mio dai cimitti sapati più e un scudetto da catania a voi provare dai guida tu mi può buttare fuori un niegge e e e ebbene si ragazzi il video di oggi termina qui mi raccomando ragazzi se non l'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale di daniele marchese mi raccomando ragazzi vedete che ci tengo veramente molto a sto guaglione perché secondo me è un ragazzo che ha tantissimo talento e quello che vi chiedo magari è di mi raccomando supportatelo perché è un ragazzo veramente che merita tanto ragazzi ve lo dico io davvero con il cuore riconosco quando un guaglione ha un talento proprio bene ragazzi il video di oggi termina qui spero che gigi non mi quereli e che dire mi raccomando se il video è stato di vostro credimento lasciato un bel mi piace condividetelo in tantissimi se vi fa piacere e vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun video che caricherò in futuro ciao ragazzi vi mando un grosso bacione come sempre e a presto ciao ragazzi ciao